Musica Morì di uverdose da eroina Sant'Angelo Invado, arrestate tre persone tra cui il nipote della vittima. Il sindaco Seri piange la scomparsa di Giancarlo Pucci, artista che ha contribuito a valorizzare il nome di Fano in Italia e in Europa. Fine dei lavori, il primo febbraio si inaugura il nuovo centro natatorio, una giornata storica per la Fondazione Carifano e per l'intera comunità che attendeva quest'opera da decenni. La cerimonia verrà trasmessa in diretta sui social e su Fano TV. Musica Oggi l'evento finale del progetto SAFE, l'iniziativa della prefettura di Pesero Urbino, rivolta agli studenti per diffondere la sicurezza e la salute sul lavoro. Musica Prosegue il viaggio all'interno dei capannoni dei carri del Carnevale di Fano. Questa sera scopriremo l'opera realizzata dal carrista Mauro Chiappa, intitolata Ho visto l'hai che bacia lui. Musica Stasera su Fano TV la dodicesima puntata di Guarda chi c'è, ospite Damiano Fabri, giovane compositore e direttore corale. Musica Filmati e storie inedite della Fano che fu, venerdì 19 gennaio trasmetteremo in prima serata il documentario con foto e video dell'archivio di Del Bianco per i 50 anni dello studio. Musica Buonasera e benvenuti a Occhio alla Notizia, lo avete sentito, è ufficiale. Giovedì 1 febbraio verrà inaugurato il nuovo centro natatorio realizzato grazie a un investimento di oltre 7 milioni di euro della Fondazione Carifano. La cerimonia che verrà trasmessa in diretta su Fano TV vedrà anche la partecipazione del Ministro per lo Sport, un'opera che la città attendeva da oltre 30 anni. E' una giornata che segna la storia della Fondazione Carifano, così il Presidente Giorgio Cragnola che questa mattina ha annunciato la data, tanto attesa, per l'inaugurazione del nuovo centro natatorio realizzato e finanziato dall'ente stesso. La cerimonia è prevista per giovedì 1 febbraio alle ore 18 alla presenza del Ministro per lo Sport Andrea Bodi, che grazie all'interessamento dell'On. Carloni sarà presente al taglio del nastro, anticipato da uno spettacolo, da alcuni interventi istituzionali e dalla benedizione della struttura. Per questioni di sicurezza e di capienza massima di 240 persone, l'iniziativa non sarà aperta al pubblico, ma sarà visibile in diretta su Fano TV e sui canali social della Fondazione. Presidente, un'opera che ha impegnato per tantissimi anni la Fondazione, la quale ha messo in campo il finanziamento più alto nella sua storia? Sì, 7.250.000 euro sono l'impegno finanziario della Fondazione per realizzare il centro natatorio, Notiamo Fondazione Carifano. Questo appunto è il nome scelto, per quale motivo? Il nome è intanto un nome che rappresenta una collettività, Notiamo, dà un senso d'insieme. Questo logo con le due O all'interno delle quali ci sono due parole, nuoto e salute, caratterizzano questo centro natatorio, che non ha soltanto una vocazione sportiva, ma anche una sezione riabilitativa che è un'attenzione alle cure necessarie per le persone più fragili, che anche con l'acqua e quindi con quello che trovano nel centro natatorio possono portare avanti le loro cure. È un'opera che la nostra collettività aspettava da oltre 30 anni, quindi è arrivato il momento di metterla a disposizione dell'amministrazione comunale, che la riceverà in usufrutto gratuito per 30 anni e poi l'amministrazione comunale la consegnerà al gestore che potrà così portare avanti i servizi. Non è ancora stata stabilita però la data ufficiale di apertura. Il centro comprende quattro vasche, di cui una da 25 metri, due più piccole per l'acqua gym e i bambini e una per la riabilitazione, ma il progetto prevede per il futuro la possibilità di realizzarne una anche da 50 metri. Con l'inaugurazione, ha commentato oggi il sindaco Seri, si dà una risposta importante a due bisogni della città. È una risposta ad un bisogno sportivo, quello di una struttura, una piscina, adeguata ai nuovi parametri e alle esigenze sempre più alte che ci sono delle società sportive, dei nostri giovani e meno giovani, se così si può dire. Quindi è veramente una bella risposta. E l'altra è una risposta anche alla salute, con un centro riabilitativo all'interno, anche questo moderno, con tutte le caratteristiche che deve avere un centro di riabilitazione. E qui lasciatemi esprimere anche un grande ringraziamento alla Fondazione, perché ha fatto un investimento importante per la città e per il territorio. E vorrei sottolineare anche la grande collaborazione che c'è stata fra l'amministrazione e la Fondazione, perché questi percorsi sono percorsi complessi, con ostacoli che si incontrano in diverse circostanze. Ma mi piace anche sottolineare che tutto questo sta in un progetto molto più ampio, partito diversi anni fa, che vede la Fondazione e l'amministrazione partecipi collaborativi. La gestione ordinaria dell'impianto, come spiegato dall'assessore Brunori, sarà di competenza del nuovo gestore, cioè della Fano in Fortuna e Nuoto e Pool 4.0, che avevano costituito il raggruppamento temporaneo di imprese. Invece la manutenzione straordinaria spetterà al Comune di Fano. Assessore, per quanto riguarda la viabilità, che punto sono i due tratti di ciclabile? Il primo tratto è già disponibile, manca solo e solo mancanti di illuminazione, mentre la seconda parte è quella che appunto deve essere messa a disposizione dal Comune. Stiamo facendo una bonifica bellica che abbiamo dovuto approfondire, proprio perché ci sono stati dei ritrovamenti, quindi adesso andiamo ad indagare un'area un po' più estesa, dopodiché partiranno i lavori. Ricordiamo che questo tratto non solo congiungerà la città al centro natatorio, ma si congiungerà anche al discorso della ciclovia del Metauro, che andremo a realizzare e dal Parco Urbano, grazie ad un ponte che naturalmente verrà realizzato con la Regione Marche, riusciremo ad accedere alla zona di Sant'Orso e quindi alla periferia più interna. Si discuteva anche di un attraversamento di fronte all'aeroporto in sicurezza. Su questo ci sono novità? Sull'attraversamento stiamo lavorando appunto per capire il tipo di progettazione perché probabilmente ci sarà anche una rotatoria che verrà messa a disposizione e quindi dobbiamo trovare il punto più affine e più, diciamo, utile per riuscirlo a congiungere a quello che oggi è il centro. È morto all'età di 87 anni Giancarlo Pucci, artista affermato della città di Fano, nonché papà di Ignazio, dirigente del Comune. Ad esprimere cordoglio il primo cittadino Massimo Seri. Pucci, ha ricordato il sindaco, è stato un importante artista della città e ha contribuito a valorizzare il nome di Fano in Italia e in Europa. Poliedrico e talentoso, ha sostenuto il fermento creativo cittadino e ha promosso un linguaggio comunicativo diretto e autentico. Il funerale di Pucci verrà celebrato domani, venerdì 19 gennaio alle ore 15, nella parrocchia di San Pio X. I carabinieri della compagnia di Urbino hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di tre persone residenti in provincia. I tre sono accusati di spaccio di sostanze stupefacenti e inoltre avrebbero concorso a vario titolo nell'accessione di eroina a un uomo poi deceduto. I fatti risalgono lo scorso febbraio, quando nel comune di Sant'Angelo in Bado i carabinieri della locale stazione intervennero per la morte dell'uomo all'interno della propria abitazione. A chiamare ai soccorsi fu nipote e l'esame autoptico confermò che il decesso fu causato da un'overdose di sostanze stupefacenti. Avviate le indagini al fine di individuare chi avesse consegnato all'uomo la dose letale, la lente di ingrandimento è stata posta su una sala scommesse della zona in virtù del ritrovamento nella casa del deceduto di residui di eroina posati su una classica schedina utilizzata per le scommesse. Le testimonianze raccolte e gli elementi probatori acquisiti hanno poi consentito agli investigatori di risalire alla vittima del nipote che aveva acquistato la dose poche ore prima da un 44enne originario della provincia di Pesero Urbino e frequentatore della sala scommesse. Sul gradino più alto della filiera è stato invece individuato un 26enne nordafricano che avrebbe effettuato decine di cessioni di stupefacenti a persone della zona. I tre arrestati sono stati posti agli arresti domiciliari. Ancora cronaca, un detenuto da in escandescenza e ferisce quattro agenti della polizia penitenziaria. È successo ieri nel carcere di Villa Fastigia Pesero durante un controllo di routine nella cella del detenuto di origini pakistane. Una volta all'interno gli agenti hanno notato un fornello acceso con della frutta macerare, una pratica finalizzata alla preparazione di una grappa artigianale. A quel punto il detenuto, non nuovo a questi comportamenti, li ha minacciati di lanciare bombolette di gas e ha innescato un incendio subito spento grazie agli istintori. Poi il pakistano ha iniziato a diminarsi procurando un taglio nella mano di un agente e colpendo i colleghi. I feriti hanno riportato prognosi di diversi giorni. Dopo questa ennesima aggressione la UILPA, polizia penitenziaria, è tornata a ribadire la mancanza di strumentazioni, di una preparazione fisica adeguata alla gestione dei detenuti. Siamo l'unico corpo di polizia che non ha il taser, ci hanno riferito, e questo dispositivo sarebbe un importante deterrente che potrebbe far ridurre le aggressioni fino all'80%. Ad oggi, hanno concluso, operiamo mettendo a rischio ogni giorno la nostra incolumità. Cambiamo argomento, oggi si è svolto l'ultimo evento del progetto SAFE, l'iniziativa della Prefettura di Pesaro Urbino nata per diffondere l'importanza della sicurezza e della salute sul lavoro. Ce ne parla Marco Lonigro. Evento finale quest'oggi per il progetto SAFE, salute e sicurezza sul lavoro nella provincia di Pesaro Urbino. L'iniziativa avviata nel marzo 2023 è realizzata dalla Prefettura di Pesaro Urbino con partner l'Africa Chiama all'obiettivo di promuovere la consapevolezza sull'importanza della salute e sicurezza sul lavoro. L'evento di chiusura ha permesso di tirare le fila del lavoro finora svolto, capitalizzando le buone pratiche e restituendole in particolare agli studenti e alle studentesse dell'Istituto Agrario Cecchi di Pesaro. Sicuramente un'esperienza positivissima perché ha visto la collaborazione in rete di tutte le istituzioni che si occupano di sicurezza sul lavoro, ma soprattutto oggi ha restituito ai giovani delle esperienze, dei casi concreti, delle buone pratiche, che li aiuteranno a comprendere cosa significhi cultura della sicurezza e volere bene a se stessi nel mondo del lavoro come anche in tutti i contesti della vita personale. Un progetto importante anche nell'ottica dell'accoglienza e integrazione dei giovani immigrati. Sì, il nostro progetto che è finanziato con il fondo FAMI riguarda proprio i migranti e si inserisce in un'azione che come Prefettura stiamo portando avanti per aiutare i migranti nei processi di integrazione e di inserimento nel mondo del lavoro, nei loro bisogni di servizi a partire dalla salute e dalla formazione professionale. Analisi ma anche due testimonianze molto importanti quest'oggi. Oggi grazie alla collaborazione di ANMIL abbiamo avuto il privilegio di due testimonianze che hanno parlato ai ragazzi e li hanno sicuramente avvicinati al tema della sicurezza con un approccio più concreto e più reale. L'iniziativa ha raggiunto traguardi significativi consolidando il ruolo, la funzione strategica ed indirizzo della Prefettura nella governance locale dell'accoglienza e dell'integrazione. In particolare sono state erogate 30 ore formative a operatori pubblici e privati, ampliando nelle competenze le possibilità di interazione con gli utenti dei centri d'accoglienza straordinaria. In particolare questo progetto ci ha visti impegnati in quello che è il tema della salute e della sicurezza sul mondo del lavoro. Un tema delicato e importante per tutti quanti, sicuramente richiede una maggiore attenzione a affrontarlo per persone che provengono da paesi terzi, dove il tema della sicurezza e della salute sul lavoro è sicuramente molto lontano da quello che abbiamo fortunatamente raggiunto qui in Italia, dove il problema della lingua è uno scoglio fondamentale, dove sicuramente è necessario portare avanti un tema di informazione e di formazione specifica. Lo abbiamo fatto con gli operatori dell'accoglienza, che a loro volta in qualche modo a catena dovranno poi andare a formare tutte le persone accolte. Lo abbiamo fatto anche con i docenti degli istituti superiori, soprattutto con quegli istituti che formano studenti per l'inserimento di lavori più professionali, come può essere un istituto agrario dove siamo oggi ospiti, oppure gli istituti alberghieri, proprio perché sono quei lavori che da una parte hanno una grande, una maggiore livello di rischio appunto di incidenti sul lavoro, ma sono anche quegli istituti che maggiormente sono frequentati da persone di origine straniera. E quindi questi due aspetti uniti ci ha portato proprio a rivolgere a quei docenti una formazione specifica. Nei giorni scorsi i carabinieri hanno dato esecuzione a due misure cautelari del divieto di avvicinamento alla persona offesa nei confronti di due uomini residenti rispettivamente a Colle al Metauro e a terre roveresche. I due, un 56enne e un 42enne, sono entrambi ritenuti responsabili di maltrattamenti aggravati nei confronti delle loro ex compagne, spesso consistiti in aggressioni e minacce. L'uomo di Colle al Metauro, che ha posto in essere alcune violenze alla presenza di figli minori, ha l'obbligo di rispettare una distanza minima dalla vittima ovunque si trovi, di almeno 500 metri, con il divieto di comunicare con lei con qualunque mezzo. Stesso provvedimento per il 42enne, ma in questo caso, vista la gravità delle condotte, è stato applicato anche il braccialetto elettronico. Quanto successo alla scuola gentile sconcertante, la sicurezza nelle scuole deve essere una priorità. Sono le parole del consigliere regionale della Lega, Luca Serfilippi, che insieme ai consiglieri Ilari, Magrini e Scopellitti, ha protocollato una interpellanza per fare luce sul crollo d'intonaco avvenuto nella struttura scolastica. Alla gentile, ha aggiunto Serfilippi, abbiamo sfiorato una tragedia solo per pochi centimetri, visto che i 40 centimetri di soffitto che si sono staccati sono finiti poco distante dal banco di un bambino. Tutto questo è inaccettabile, considerato che i lavori di manutenzione nel tetto erano stati eseguiti nel mese di agosto. Occorre una mappatura chiara, detto e non interventi a spot, fatti con pochi ritagli presi dal bilancio comunale. Anche su questo tema si evidenzia il fallimento della giunta. Occorre una discontinuità, a concluso, che ponga la qualità e la sicurezza delle scuole al centro della programmazione dei lavori pubblici. Invece, Fratelli d'Italia Fano è intervenuta su Viale Dante Alighieri. Riceviamo tante lamentele da parte di residenti e commercianti, si legge in una nota del partito, visto che la ciclabile è totalmente invasa dalla percorrenza ad altissima velocità dei veicoli, che fa venire meno la sicurezza dell'intero tratto. Inoltre, le auto che si mettono dalle vie secondarie lo fanno sporgendosi e invadendo la ciclabile e in più di un'occasione si è sfiorato il rischio di investirli. Alla riunione di quasi un anno fa, ha spiegato Fratelli d'Italia, l'assessore Brunori aveva preso l'impegno di asfaltare la strada e realizzare un marciapiede, ma dagli atti pubblici regionali emergerebbe che l'unica domanda presentata dal Comune per ottenere fondi per i marciapiedi non è stata ammessa a causa della errata presentazione della domanda. A tutt'oggi nulla è dato sapere e Viale Dante Alighieri continua ad essere in balia di una mancanza di interventi definitivi che la mettano in sicurezza. Laura Biagiotti lascia la carica di Presidente dell'Ordine degli Infermieri di Pesero-Urbino, una scelta che è stata comunicata ieri pomeriggio durante una conferenza stampa. Sentiamo. Dopo cinque tornate elettorali e sedici anni al timone dell'Ordine degli Infermieri, la Presidente Laura Biagiotti durante una conferenza stampa ha annunciato le sue dimissioni anticipate. È un'idea che è nata in seno al Consiglio dove tutti insieme abbiamo deciso che era giusto prendere la decisione di farci sostituire da questo ruolo ai nuovi infermieri, a gente nuova che ha sicuramente voglia e tanta energia da dare in più. Il mandato sarebbe comunque concluso alla fine di quest'anno, già dall'ultimo quadrimestre, da ottobre. Io perlomeno rimarrò comunque come consigliere a dare il sostegno e l'aiuto per il Presidente pro tempore perché sarà solo nell'immediato, per poi fare un grosso in bocca al lupo invece al nuovo Presidente che vincerà le elezioni nella prossima tornata elettorale. Un'avventura lunga, 16 anni, che storia è stata? È stata una storia piena di emozioni, non nego di grandi difficoltà, mi ha arricchito tantissimo dentro, devo dire che mi ha insegnato a volte a fare lo psicologo, il sociologo, l'avvocato, perché è veramente molteplice l'attività che ti porta a fare il Presidente dell'Ordine. Quindi mi sono arricchita tantissimo, tante conoscenze, è un gran bagaglio culturale che vedremo in futuro come poter spendere al meglio. L'Ordine degli infermieri dovrà affrontare tante battaglie e quella più grande riguarda gli stipendi, per le competenze e il carico di lavoro che abbiamo, ma anche per i rischi che affrontiamo, racconta Laura Biagiotti, non è accettabile uno stipendio di 1.500 euro al mese, una condizione poco gradevole per una professione, quella dell'infermiere, che nel corso degli anni si è evoluta notevolmente. Ha fatto passi da gigante. Noi prima del 2018 ancora parlavamo addirittura di mansionari, oggi invece l'infermiere laureato ha una sua specifica professione, spendibile in tutte le realtà, ormai abbiamo ambulatori infermieristici, gestioni proprio infermieristiche anche di tantissimi servizi. Quindi l'infermiere sta a livello professionale portando avanti uno sviluppo notevole che purtroppo ahimè non corrisponde alla parte riminerativa che è rimasta ormai troppo indietro a livello contrattuale. La pietra dello scandalo ci risiamo. Inizia così il messaggio di un nostro reporter di strada che ci ha inviato queste due fotografie scattate all'incrocio tra via Gabrielli e via Giordano Bruno. A meno di tre mesi dalla precedente segnalazione, ha spiegato il telespettatore, è di nuovo saltato il rivestimento marmorio del marciapiede. Evidentemente a causa di qualche manovra maldestra, ma sorge anche il sospetto, aggiunto che la riparazione in quel punto meriti un più generoso impiego di cemento di qualità, a prova di carro armato, direi. Suggerisco di nuovo, ha concluso, se non già fatto, di avvisare chi di dovere prima che qualcuno si faccia male. Conclusi i lavori di messa in sicurezza del ponte tra Fossumbrone e Ghillardino sulla strada provinciale 5 Mondaviesa, ridosso dello svincolo della superstrada Fossumbrone Est. L'intervento ha visto un investimento di 200 mila euro da parte della provincia. Grazie all'operazione sono state installate barriere di sicurezza moderne e prestazionali in acciaio corten con il consolidamento dei cordoli di ancoraggio. Intervento strategico per la sicurezza è atteso da tempo, sottolineato il presidente della provincia Giuseppe Paolini, considerato che la strada è molto trafficata e rappresenta un collegamento rilevante per l'entroterra tra i comuni di Fossumbrone, Sant'Ippolito e Pergola. Soddisfatti il sindaco Massimo Berloni e il vice Chiarabilli che hanno ringraziato la provincia anche per l'ottimo lavoro svolto dalla ditta in tempi record. Invece l'ANAS inizierà i lavori lungo la strada statale 423 Urbinate che collega la zona Sasso con Trasanni. Dal 23 gennaio sarà installato il cantiere su un lato della careggiata e predisposta la deviazione del traffico nella sola direzione Urbino-Pesaro lungo via Molino del Sole e proseguendo su via Seghetto. Un'apposita segnaletica indicherà il percorso da seguire per tutta la permanenza del cantiere. Prosegue il viaggio del nostro inviato Filippo Pucci all'interno dei cappannoni dei carri del Carnevale di Fano e nel prossimo servizio andiamo a vedere l'opera realizzata dal carrista Mauro Chiappa. Ho visto la I che bacia lui è il titolo particolare del carro realizzato da Mauro Chiappa insieme all'associazione Fanta Gruel, carro di prima categoria che andremo a vedere oggi qui all'interno dei cappannoni del Carnevale di Fano. Mauro Chiappa, ho visto la I che bacia lui, ci può spiegare il titolo di questo carro? Il titolo del carro è, ho visto la I che bacia lui, la I è l'intelligenza artificiale. Il carro racconta della possibilità infinita dell'intelligenza artificiale di eguagliare e raggiungere tutte le potenzialità umane tranne, secondo noi, l'emozione del bacio e delle emozioni umane più vive e più vere. Come si sviluppa il carro e cosa troviamo nella sua vita? Nel carro potrete trovare un grosso robot che rappresenta l'intelligenza artificiale al centro del carro dove è intento ad abbracciare un'entità luminosa, però non riesce in realtà ad abbracciare nessuno. intorno al carro ci sono delle figure invece umane che rappresentano tutte quante le accezioni del bacio. Siete tutti invitati a partecipare alle tre sfilate del Carnevale di Fano e a vedere i nostri carri. Buon Carnevale a tutti! E domenica 28 gennaio trasmetteremo da Viale Gramsci il giro di presentazione dei carri allegorici dunque indicativamente saremo in diretta dalle ore 15 alle ore 16. Grande successo per la cena grassa andata in scena ieri sera a Villa Piccinetti. L'evento non solo segnava l'inizio del periodo carnascialesco ma aveva il nobile obiettivo di raccogliere fondi a favore della mensa di San Paterniano. Fine raggiunto grazie al tutto esaurito che ha permesso di raccogliere ben 4.507 euro. Inaugura invece sabato 20 gennaio alle ore 11 nella galleria del centro commerciale Fano Center la mostra dedicata alla musica arabita. L'esposizione permette di ammirare da vicino oggetti che hanno fatto la storia di questa strampalata banda e fotografie che immortalano protagonisti di ieri e di oggi. In totale 26 immagini e 8 oggetti che si potranno ammirare lungo la galleria fino al 19 febbraio. In più sabato 20 e 27 gennaio, sabato 3 e 10 febbraio alle ore 11, oltre alla mostra è in programma un'esibizione dal vivo della musica arabita. Sempre sabato 20 gennaio alle ore 21 nel salone della Casa della Comunità Don Paolo Tonucci la Borghetti Bugaron Band si esibirà in concerto per l'anniversario dei 20 anni della canzone del Carnevale Avanti e in Dre. Infine domenica 21 alle ore 11 sarà possibile partecipare alla visita guidata alla fabbrica del Carnevale. Maggiori informazioni le troverete anche sul nostro sito occhioallanotizia.it E' un anno esatto dalla messa in onda su Fanu TV dell'Archivio del Bianco. Domani sera trasmetteremo nuovamente questo documentario che è tanto piaciuto ai nostri telespettatori e alle tante persone che hanno assistito alla prima proiezione al cinema Politeamo. Do subito il benvenuto al nostro ospite Paolo Alberto del Bianco dello studio del Bianco. Buonasera Simona, buonasera a tutti. Ricordo che al cinema la proiezione aveva registrato il tutto esaurito, tant'è che molte persone erano rimaste fuori, insomma ha riscosso un grande successo e appunto domani sera, grazie alla vostra collaborazione, potremo trasmetterlo nuovamente. Che cosa raccontate in questo docufilm? E' un documentario strutturato su più episodi, 13 per l'esattezza, che trattano argomenti diversi, quindi spazieremo da avvenimenti avvenuti nella nostra città oppure andremo a conoscere dei personaggi che hanno reso ancora più simpatica e piacevole la vita della nostra città. Questi episodi sono scollegati tra loro, ma hanno in comune il fatto che appunto riguardano la città di Fano e quindi andremo a scandagliare epoche diverse, sempre però tenendo a mente la bellezza della nostra città e i vari avvenimenti che qui sono accaduti. Invece per quanto riguarda i personaggi ci può fare qualche esempio? Come no, ci sono personaggi ormai entrati nell'immaginario collettivo, penso per esempio a Paolino che era una figura incredibile che ha vissuto a Fano, il mitico romano che molti di noi ricorderanno, oppure andremo a conoscere meglio personaggi che a nostro avviso hanno dato lustro alla città di Fano. Penso per esempio al pittore Tom Storer, il pittore inglese che nella nostra città ha vissuto subito dopo la guerra e grazie al suo pennello noi oggi riusciamo a rivivere delle atmosfere e rivedere degli scorci che il tempo ha inesorabilmente cambiato. E oltre a questo poi vedremo anche vari cambiamenti architettonici della città, quindi proprio un tuffo nel passato. Esattamente, grazie a questi filmati, la quasi totalità dei quali sono amatoriali, filmati in superotto, riusciremo a cogliere bene quelli che sono stati i grandi cambiamenti architettonici che la nostra città ha incontrato nel corso degli ultimi 50 anni. Ecco, un documentario che è nato in occasione di una ricorrenza particolare. Esattamente, il nostro studio è stato fondato da mio padre Paolo nel 1972, quindi a fine del 2022 abbiamo deciso di fare questa proiezione proprio per celebrare quella che per noi era una data importante e appunto abbiamo realizzato questo documentario per festeggiare il nostro mezzo secolo di permanenza nella città. E se qualcuno si dovesse rivedere in qualche immagine, anche in quelle che noi trasmettiamo nel nostro palinsenso durante la giornata, come può fare? Capita spesso, infatti. So che ricevete diverse telefonate di persone che si rivedono in questi intervalli che trasmettiamo. Se qualcuno dovesse rivedersi, avesse piacere di avere il frammento del filmato, può contattare lo studio del Bianco e noi saremo lieti di potergli lo dare. Grazie Paolo Alberto per essere stato con noi. Un saluto anche allo studio del Bianco. Grazie mille a voi e a questo punto appuntamento a domani. Appunto domani sera non perdetevi il documentario che sarà preceduto dall'annuncio dei vincitori del concorso di Fanu TV alla scoperta dei presepi. Vi ricordo inoltre che lunedì prossimo il sindaco di Senigallia Massimo Olivetti sarà l'ospite di Primo Cittadino. Potrete intervenire in diretta dalle ore 19 chiamando allo 0721 86 14 33 oppure inviando un breve messaggio su WhatsApp al 338 49 68 250. Tra poco invece trasmetteremo la dodicesima puntata di Guarda chi c'è. L'ospite di Maria Elena del Bianco sarà Damiano Fabri, giovane compositore e direttore corale. Seguirà uno speciale dedicato al concorso nazionale di bellezza splendida d'Italia. Il nostro telegiornale termina qui. Grazie per averci seguito e buona serata a tutti. Grazie per averci seguito e buona serata a tutti.